Ehi, ciao, Tibun. Io sono pronto, non vedo l'ora. No, sul serio. Modalità activist attiva. Allora, come inculiamo la Bloom? Oh, che c'è? Torna a giocare, ragazzo. Avete molto da lavorare prima di arrivare alla Bloom, anche col mio aiuto. Ray, fai un briefing senza di me. Dobbiamo esserci tutti. Ah, no, non volevo disturbarti. Ma quale disturbo? Nessun disturbo. Forza, Marcus. Briefing. Ok. Allora, direi... Diamo un'occhiata ai grossi aggregatori di dati. Gli amici di Noodle. Ogni volta che cerchi qualcosa, dai frigoriferi scontati all'anal violento, scoprono qualcosa in più sul tuo conto. È profilazione di base. Giusto. Però forse non sai. Che la Bloom ha già messo le zampe su tutti quei dati. Oh, cazzo. Questa è grossa, Sitara. I dati di Noodle servono alla Bloom per rafforzare Bellwether, per affondare di più gli artigli. Se mettiamo le mani su queste munizioni, possiamo abbattere anche i bersagli più grossi. E io posso farcela. Per hackerare Noodle devi trovarti nella server farm e non puoi entrarci senza autorizzazione. Se non lavori lì, non puoi nemmeno attraversare il cancello principale. Secondo te Rob Zombie qui da chi ha avuto le info? Dimmi che hai l'autorizzazione. No, sto tenendo un profilo basso. Uno dei miei capi mi sta col fiato sul collo. Ma tu, Marcos, puoi passare per un impiegato. Può fare di più che passare per impiegato, Sitara. Ripeti quello che mi hai detto, Orazio. I bus di Noodle. Ho inserito un exploit per le credenziali. Posso farti arrivare ai bus. Devi solo entrare guidando. Crederanno che tu sia uno dei nostri autisti. Merda. Allora facciamolo. Va bene, dai. Facciamolo. Ehi. Facciamolo.